non stanno sbagliando un colpo eh vabbè e tra un po' di tempo e qui può starci il cartellino l'arbitro non lo guarda e strike cartellino di sal vai 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 così 3 a 0 errore della difesa però proprio una cosa inguardabile madonna che squadra i brividi vengono dammela qua che sono da solo dammela qua perché li salto tutti ci provo 4 a 0 e siamo ancora nel primo tempo immaginate madonna che cosa ha fatto il portiere inguardabile proprio madonna ma perché non vi ritirate esattamente ok recupero un pallone incredibile recupero un pallone incredibile mamma mia mamma mia mamma mia il portiere però bravissimo proprio il portiere stava grossa me la vai che ci provo di testa peccato ci posso provare lo stesso me la parà vai 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 ma che cazzo fa tanto da qui da lì pure che tiravi guarda era gol sicuro sicuro fanno pena comunque fanno pena vuoi vedere che adesso vanno proprio a fare gol no fuori gioco finisce la partita 6 a 0 distrutti attenzione perché adesso comincia il campionato con il campionato non si può sbagliare vediamo all'esordio del campionato che cosa riesco a fare partiamo subito così 1 a 0 grandissima azione di tutta la squadra non facciamo cazzate da non facciamo cazzate porca puttana non sono riuscito a tirare passamela che c'è tutto libero qua davanti a me ma crossatemela nessuno che è disposto a crossarmela ci posso provare ad effetto me l'ha parata vai avanti così vai vai avanti così vai che ce li mangiamo tutti crossamela in mezzo che sono da solo ci provo di testa molto debole però ancora è nostra no 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 peccato dai che io sono qui passamela passamela che cazzo ti tiri in quel modo calcio d'angolo non ci arrivo di testa non è finito ma che cazzo ci deve essere lì scusateci io non voglio insistere però c'è ma che cazzo ti rifà ma che cazzo cosa sta succedendo qui vabbè finisce il primo tempo 1-0 per noi non è che sono qui da solo no no non me la passa tienite cazzo gol raga io vi giuro non avevo visto che mi avesse passato la palla io ero libero tranquillo lì però è finito tutto per il meglio per fortuna nel studio riesce a prendere la palla meno male che ci è riuscito il nostro compagno però non c'è nessuno quindi non si fa niente attenzione perché io sono in mezzo vediamo se riesco a saltare qualcuno invece no devo passare la palla e mi contrasta proprio mentre vado a fare il passaggio grandissimo recupero vai andiamo a fare quest'altro gol crossamela che io sono da solo in mezzo praticamente cazzo no vai cazzo prendila ma crossala no vedi che ci sono io avanti da solo che cazzo fai ti tieni la palla sì certo domani mattina ci arrivo lì ma io non capisco questi cazzo di passaggi che fanno io proprio non riesco proprio ah non lo so io non è finita l'azione questa è la cosa importante ci posso provare oh che cazzo di liscio ho fatto vai vabbè calcio di punizione incredibile vediamo che cosa fa l'arbitro qua le ha dato il cartellino rosso eh ci sta se me la passi io ci provo a fare un tiro ma che passaggio è cioè io ti chiedo di passarmela tu che cazzo fai mi fai un passaggio che il pallone si muove così al millimetro così ma che cazzo è facciamo quest'altro partito contro questa squadra dal nome come sempre impronunciabile Excelsior Excelsior non so nemmeno come si dica raga scusatemi ci provo il portiere si è lanciato in un modo proprio ho recuperato un pallone che nemmeno se me lo passavo non lo prendevo in questo modo porco demonio e ci devo provare per forza sempre quella capocciona di minchia del difensore porco demonio prendi la prendi che cazzo fai il contrasto e non la prendi ma che cazzo sei dammi qua la palla vaffanculo vai che di prima te l'ho fatto il passaggio per di tempo porco demonio ancora nostra ancora nostra dai no 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 queste sono cose inguardabili non si possono vedere queste cose qua attenzione perché ci può provare madonna il nostro portiere non è che scherza pure adesso mi son rotto il cazzo però vaffanculo mi son rotto il cazzo davvero però adesso attaccate cioè marcate stretti porco demonio lasciate correre tutti oh madonna santissimo attenzione perché l'ho presa in qualche modo l'ho presa non so nemmeno io come in realtà e ce li ho tutti addosso ovviamente devo fare tutto da solo perché sono sicuro che se la passo la palla non facciamo niente porca puttana ci posso provare pallone deviato ancora ora è finita attenzione ancora non è finita finisce qui il primo tempo 0-0 questa è una partita difficile difficile perché non diciamo fare le azioni fatte bene come si deve lo salto benissimo lo salto benissimo attenzione perché posso saltare anche lui ci posso provare porca troia porca troia vediamo che cosa riusciamo a fare qua vediamo se riusciamo a fare un'azione fatta bene di testa in rete sì 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 mi ho fatto un cross bellissimo queste sono le azioni che dobbiamo fare sempre senza fatica porca troia devo tornare indietro per forza dammela qua non ci posso mai riuscire da qui ma io voglio capire questi passaggi cortissimi che fate ma perché attenzione ci provo fuori oddio 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 no 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 ci possiamo riprovare attenzione attenzione ci posso riprovare da solo vediamo se riesco a fare un altro cross e non me la porto fuori e provateci porca troia ma nessuno che riesce a prendere quella cazzo di palla eh porca troia vediamo se ci riesco lo salto intanto lo salto lo salto io ti ho visto provaci porca troia un contrasto dovete fare no no ho visto un errore difensivo che non si potrà ripetere mai più quello è un errore da cartellino rosso è un errore deve sparire dalla squadra quel difensore lì porca puttana una partita fatta bene fatta bene non sono di nuovo a Palermo porca puttana non sono di nuovo a Palermo io cioè pareggiare o perdere partite così veramente è una cosa inaccettabile questa è la classifica attuale un pareggio una vittoria quattro punti è sesta posizione per noi io non voglio dire niente non voglio dire niente però però se continuiamo così io mi ritiro mi ritiro dal calcio proprio